Nelle sale redazionali di Mediaset, un annuncio che ha catturato l'attenzione di tutti è emerso come un raggio di sole in una giornata nuvolosa. Silvia Toffanin, una delle personalità più amate e ammirate nel panorama televisivo, ha preso tutti alla sprovvista con la rivelazione che condurrà il programma Verissimo. La sua presenza dolce e il suo carisma vincente hanno sempre creato un legame profondo con il pubblico, che da anni la segue con affetto. Mentre i fan nutrivano segretamente speranze per questa notizia, il suo annuncio ha finalmente portato una ventata di freschezza e gioia nell'aria. La vita di Silvia Toffanin è sempre stata un mix affascinante tra la luce dei riflettori e la sfera intima. Dagli splendidi momenti della nascita dei suoi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, fino alla sua lunga e stabile relazione con Pier Silvio Berlusconi. La curiosità e l'interesse del pubblico sono sempre stati alle stelle. La coppia, che ha sfidato le sfide del tempo, ha costantemente alimentato speculazioni riguardo a quando finalmente suggelleranno il loro amore con il matrimonio. Tuttavia, gli ultimi tempi hanno portato con sé una serie di prove straordinarie per Silvia e la famiglia Berlusconi. La malattia, e poi la triste scomparsa dell'ex leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, hanno scosso profondamente non solo il mondo dello spettacolo, ma anche la vita dei suoi cari. Mentre Silvia affrontava il dolore insieme ai suoi cari durante i momenti difficili, è stata Maria De Filippi a dimostrarsi un pilastro di sostegno costante. L'amicizia profonda e la stima reciproca tra le due donne hanno dato conforto a Silvia in un periodo di lutto e incertezza. È proprio questo legame speciale che ha gettato le basi per un nuovo capitolo entusiasmante nella vita di Silvia Toffanin. Notizie autorevoli suggeriscono che Maria De Filippi abbia fortemente auspicato la presenza di Silvia come conduttrice nel rinnovato programma La Talpa. Questa prospettiva di un ritorno trionfale per il programma ha suscitato entusiasmo tra i fan e, senza dubbio, ha regalato un sorriso di approvazione al compagno di Silvia, Pier Silvio Berlusconi. In un momento in cui il dolore ha dominato la scena, ora c'è spazio per la celebrazione e la gioia, segnando una nuova fase nella vita di Silvia Toffanin. Mentre il mondo dell'intrattenimento si sforza di riprendersi dalla triste perdita di Silvio Berlusconi, il cui impatto si è esteso ben oltre i confini delle telecamere, Silvia Toffanin si è rivelata una figura di forza e resilienza. La sua partecipazione al funerale dell'ex leader di Forza Italia è stata un momento toccante e commovente, con le immagini di una Silvia devastata dal dolore circondata dai suoi cari che hanno catturato il cuore di molti. Tra coloro che si sono dimostrati vicini a Silvia in questo momento difficile spicca il nome di Maria De Filippi. L'amicizia tra le due donne è stata solida nel corso degli anni e si è dimostrata un faro di sostegno, anche nei momenti di oscurità. Maria è stata un punto di riferimento costante per Silvia, incanalando la loro stima reciproca in un legame che ha dimostrato la bellezza dell'empatia umana. Ora, questa connessione profonda sembra aver portato conseguenze straordinarie. Fonti attendibili hanno rivelato che Maria De Filippi ha espresso un forte interesse affinché Silvia Toffanin diventi la volto di Latalpa, riportando nuova vita a un programma che è stato amato dal pubblico. Questa prospettiva non solo ha risvegliato l'entusiasmo tra i fan di Silvia, ma ha anche portato un sorriso di compiacimento su Pier Silvio Berlusconi, il compagno di lunga data di Silvia. Dopo periodi di dolore e tristezza, la notizia di questo nuovo inizio rappresenta un motivo di festa e celebrazione. In conclusione, la storia di Silvia Toffanin è un intreccio di amore, amicizia, successi e sfide. La sua decisione di guidare Verissimo e l'opportunità di portare nuova linfa vitale alla Talpa attraverso il sostegno di Maria De Filippi rivelano una nuova fase nella sua carriera e nella sua vita. Mentre Silvia prosegue in questa avventura, il suo pubblico affettuoso rimarrà al suo fianco, sostenendola in ogni passo del suo percorso unico e straordinario. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto.